Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle? Cioè aveva dei fratelli biologici o era figlio unico? Chi erano i fratelli e le sorelle di Gesù di cui si parla nei Vangeli di Marco e di Matteo? Ora andiamo a vedere che appunto ci sono due brani, uno nel Vangelo di Marco, l'altro nel Vangelo di Matteo. In questi brani si parla di fratelli e sorelle di Gesù e fin dalle origini cristiane ci si è interrogati proprio sull'identità di questi fratelli e sorelle di Gesù. Cioè gli studiosi ci sono domandati ma chi erano questi fratelli e sorelle di Gesù? Erano fratelli e sorelle biologici o qui bisogna intendere qualcos'altro con fratelli e sorelle? Innanzitutto andiamo a leggere uno dei due brani, il Vangelo di Marco Visita a Nazareth Gesù partì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga E molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua E lì non poteva compiere nessun prodigio Ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì E si meravigliava della loro incredulità Quindi la scena è questa Siamo a Nazareth Il paese di Gesù Gesù era di Nazareth E la gente è sorpresa delle parole di Gesù Dei gesti, dei segni, dei miracoli E si domanda Ma chi è questo? Come fa a fare queste cose? Ecco il senso delle frasi Ma non è costui il falegname, il figlio di Maria? E in questo contesto Vedete che c'è scritto Non è costui il fratello di Giacomo Di Ioses, di Giude e di Simone E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ecco il punto Qui, così come nel brano di Matteo che sta di sotto Ecco, sua madre e i suoi fratelli Stavano fuori e cercavano di parlargli Qualcuno gli disse Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti Quindi abbiamo questi due brani In cui si parla di fratelli e sorelle di Gesù Addirittura nel primo brano Si citano i fratelli di Giacomo, Gios, Giude e Simone E quindi gli studiosi si sono domandati Ma chi erano questi fratelli e queste sorelle di Gesù? Abbiamo diverse risposte a questa domanda Partiamo dal fatto che io ho già detto che i quattro Vangeli canonici Cioè i quattro Vangeli presenti nella Bibbia Vangelo di Matteo Vangelo di Marco Di Luca e di Giovanni Sono stati scritti, secondo gli studiosi, in greco antico Infatti vedete che ho messo in questa diapositiva La traduzione in greco antico Del Vangelo che noi abbiamo in italiano O meglio, è il contrario Il nostro Vangelo in italiano È una traduzione dal testo greco Gli studiosi si sono domandati Ma quelle espressioni in greco antico Che noi traduciamo I fratelli e le sorelle di Gesù Come devono essere interpretati E come vi dicevo abbiamo diverse risposte Andiamo a vedere queste risposte La soluzione della Chiesa Cattolica Cioè, come risponde la Chiesa Cattolica Come rispondono gli studiosi cattolici La domanda Chi erano questi fratelli e queste sorelle di Gesù? Risponde la Chiesa Cattolica I fratelli e le sorelle di Gesù Citati nei due Vangeli di prima Sarebbero suoi parenti Probabilmente cugini Questi potrebbero essere figli di un fratello O di una sorella Di Maria o di Giuseppe Cioè, alla domanda Chi erano questi fratelli e queste sorelle Citati nei due Vangeli? La Chiesa Cattolica risponde Non erano fratelli biologici Sorelle biologiche Erano parenti di Gesù Cugini Perché? Perché gli studiosi cattolici dicono Lo stesso termine Poteva essere tradotto in fratelli O in cugini Cioè, il termine che noi traduciamo in italiano Fratelli In realtà poteva essere tradotto anche in cugini Anzi, sarebbe stato meglio Che fosse usato questo termine Quindi La risposta cattolica è Non erano fratelli e sorelle biologici di Gesù Erano parenti di Gesù Quindi la traduzione è sbagliata La traduzione è imprecisa Soluzione delle chiese ortodosse Dei cristiani ortodossi Un altro gruppo di cristiani I cristiani ortodossi fanno un altro ragionamento E dicono I fratelli e le sorelle Citati nei due Vangeli di prima Sarebbero figli avuti da Giuseppe In un precedente matrimonio Cioè, i cristiani ortodossi dicono Questi fratelli, tra virgolette, e sorelle di Gesù Non sono figli di Maria e Giuseppe Ma sono figli di Giuseppe Avuti in un precedente matrimonio Giuseppe Prima di sposare Maria Sarebbe stato già sposato E avrebbe avuto dei figli Dalla prima moglie Questa prima moglie Probabilmente sarebbe morta Giuseppe sarebbe rimasto vedo E a questo punto avrebbe sposato Maria Quindi, secondo i cristiani ortodossi Questi fratelli e sorelle di Gesù Citati dai Vangeli Sarebbero fratellastri di Gesù Sorellastre di Gesù Cioè figli avuti da Giuseppe In un precedente matrimonio Come vi dicevo Ci sono più risposte Alla domanda Chi erano questi fratelli E queste sorelle di Gesù La terza risposta è quella Dei cristiani protestanti Un altro gruppo di cristiani E dei testimoni di Geova Cristiani protestanti E testimoni di Geova rispondono Questi fratelli E queste sorelle di Gesù E queste sorelle di Gesù Citati dai due Vangeli Sarebbero figli avuti Da Maria e Giuseppe Dopo la nascita di Gesù Quindi i cristiani protestanti E dei testimoni di Geova Dicono Questi fratelli e queste sorelle Di Gesù Semplicemente fratelli e sorelle Biologici di Gesù Avuti da Giuseppe e Maria Dopo Gesù Dopo Gesù Quindi alla domanda Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle Abbiamo tre risposte I cattolici affermano No, Gesù era figlio unico Queste persone citate come fratelli e sorelle In realtà erano parenti Cugini forse I cristiani ortodossi invece rispondono Erano figli avuti da Giuseppe In un precedente matrimonio Quindi fratellastri Sorellastri di Gesù I cristiani protestanti E testimoni di Geova Invece rispondono Sì, erano veramente fratelli e sorelle Biologici di Gesù Grazie a tutti Grazie a tutti Pagворi